amici della slot machine come andiamo? il vostro amico cherry lemon slot machines è tornato ci ho messo un po e vi avevo detto che sarei tornato a settembre ma ci sono stati una serie di contrattempi a casa dei suoceri che mi hanno trattenuto a stare praticamente fino a ottobre sono tornato sabato scorso è una settimana che sono a casa mia adesso questo weekend è il primo weekend in cui mi sono dedicato a fare un po di ordine in casa perché ovviamente avevo l'erba alta in giardino ho dovuto mettere a posto un sacco di cose e ho iniziato come vi avevo preannunciato nel video nel video di quest'estate a mettere praticamente a sistemare il garage per per contenere la mia la mia collezione di slot machine non dico una sala slot privata perché alla fine ci sono soltanto io e basta però insomma volevo farvi vedere un paio di idee che mi sono venute per per organizzare la sala questo sarà il primo di una serie di video infatti adesso farò la creerò la playlist per questo video qui e per questo argomento qui dove vi mostrerò gli aggiornamenti di volta in volta e vi mostrerò gli aggiornamenti del della della mia chiamiamola sala slot privata allora io adesso qui sono seduto sullo sgabello ma vi faccio vedere un attimo come ho impostato la situazione praticamente adesso c'è un solo sgabello e ne arriveranno altri insomma ho creato qui c'è questo mobile ovviamente questo è un mobile recuperato per il momento uso cose recuperate poi più avanti magari comprerò qualcosa di più carino visto che io ho intenzione di decorare insomma le pareti magari qui fare che ne so del o un intonaco del cartongesso insomma questo lato qui di pitturarlo un po insomma devo fare delle delle sistemazioni questo mobile queen al momento c'è c'è questa qui la mini bravo centrata e se dovesse arrivarmi un'altra macchina di questo tipo ce la farò stare tutte e due diciamo per il momento questo banco qui è il banco che dove dove metterò le slot machine da banco questa qui la primavera ce l'ha il suo mobile e qui ho avuto proprio l'idea oggi ho fissato questo questo piccolo ripiano mi è venuta l'idea oggi stesso l'ho fissato qui per appoggiare delle cose quando si gioca la larghezza è una larghezza che basta per permettere due sgabelli uno di fronte all'altro anche se ripeto non verrà mai nessuno qui a giocare perché la sala è soltanto mia però mi piace avere una una saletta così come se fosse una cosa vera qui ci sono le qui c'è la gnomos e la indiana jones ho recuperato questo mobiletto dell'ikea che avevo in casa per adesso l'ho messo qui qui la la triple set in realtà non è centrata come vediamo se riesco a far vedere non è centrata è messa laterale perché all'inizio io l'avevo messa lì e penso che la lascerò lì perché così se lì praticamente c'è il posto se arriva un'altra slot di quelle grandi con il mobile grande c'è il c'è il posto per mettere la la nuova slot che dovrebbe arrivare dovevo a settembre doveva arrivarmi cioè dovevo concludere l'affare con una slot di queste qui di questo genere qua queste di queste con il feature game però purtroppo è stata venduta e quindi niente per il momento sono con queste qui che ho qui praticamente ovviamente io qui sono nel mio garage il garage è doppio in lunghezza e quindi devo tenermi la parte qui una parte la prima metà la devo tenere per il posto macchina la moto al momento ce l'ho ma ho una mezza idea di vendere ma che non ho più tanta voglia di andare in moto qui adesso in questo momento c'è tutto dietro le slot c'è tutto ammassato così tutto in un bancale penso che metterò due bancali uno di fianco all'altro e dietro i bancali cui metterò dei pannelli che chiudono in modo da fare come se ci fosse una parete qui no perché qui è brutto che è brutto che qua si veda di fuori e allora di là ci sarà una parete che coprirà tutto quanto qui sopra prima non vi ho fatto vedere che avevo già messo queste mensole adesso c'è questa roba qua che questa tutta roba che andrà via e lì ci staranno o cose che hanno a che fare con la sala slot no staranno cose che hanno a che fare con la sala slot ecco niente mi sembra di avervi detto tutto per il momento è tutto questo è solo il primo comunque il primo video di questa di questa serie di questa playlist mano a mano che farò aggiornamenti sul sulla sulla saletta ve li mostrerò anche perché mi sono dimenticato di dire che adesso questo ovviamente questo il pavimento del garage è quello che ho intenzione per prima cosa di fare una pavimentazione ovviamente qualcosa di economico uno di quelle quelle strisce di pvc adesive che sembrano legno insomma una cosa assolutamente economica perché come vedete all'inizio come vi ho detto sto ancora andando con mobili recuperati mano a mano che crescerà la cosa magari metterò investire un po di più insomma questo è l'inizio questo è il primo il primo video di questa serie non appena avrò sviluppi vi farò i prossimi i prossimi aggiornamenti che li farò vedere subito volentieri grazie a tutti ciao e alla prossima ciao